L'Agrario Garibaldi di Roma è una perla della formazione italiana perché alla qualità della formazione unisce una vocazione naturale dell'Italia che è quella agricola e in prospettiva dell'enograstronomia, della qualità del prodotto. Oltre 700 ragazze e ragazzi che rappresentano un pezzo di futuro italiano ed è bellissimo che abbiano scelto in questa giornata di piantare questo bosco di ulivi nel progetto ossigeno regionale e dedicato alle figure dei morti uccisi dalla mafia. L'Oliveto Falcone Borsellino entra così nell'elenco dei boschi del progetto ossigeno ma che avvenga qui in questo luogo di vita, di sapere, di formazione, di speranza di queste ragazze e ragazze è veramente un segnale bellissimo di cui siamo molto contenti e molto orgogliosi. Noi investiremo su questo istituto che può gareggiare e diventare uno dei luoghi europei della formazione nel campo agricolo veramente competitivo, lo rilasceremo mai soli.